La conclusione è prevista per domani, ma la soddisfazione per la buona riuscita dell'iniziativa è già arrivata. Parliamo degli incontri di difesa personale promossi dall'assessorato alla sicurezza del comune di Abbiategrasso, che hanno visto la partecipazione di ben 53 donne abbiatensi. Sono molto soddisfatto dell'addisione numerosa e sentita che donne e ragazze hanno manifestato per questi corsi, afferma l'assessore alla sicurezza Alberto Bernacchi. Certamente sarà un'attività che riproporremo anche nel corso del 2020. A fargli eco la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Sara Valandro, che afferma ho avuto occasione di partecipare a una di queste serate e ho potuto osservare la serietà e l'attenzione con cui ragazze più o meno giovani hanno seguito le istruzioni dei docenti. Mi sono unita anche io ad uno degli incontri di pratica, conclude l'assessore ai servizi educativi Eleonora Comelli, e aggiungo che il nostro compito è rimuovere stereotipi e modi di agire sbagliati, soprattutto a partire dagli ambiti familiari, educativi e scolastici, dove indirettamente e fin dalla più tenere età a volte si entra in contatto con atteggiamenti che influenzano poi il comportamento degli adulti.